Gli infortuni sul lavoro e le morti bianche, i dati mostrano un calo in tutta Italia tranne nelle Marche, dove al contrario sono in aumento le denunce. Quello da poco finito è stato un anno nero per gli incidenti sul lavoro nelle Marche, regione che con la Sardegna detiene il primato negativo. Sono infatti aumentate, secondo dati Inel, seppur ancora parziali, le denunce per infortuni. Più 1,8% in controtendenza con la media nazionale, che mostra una diminuzione media dello 0,2%, pari a oltre 1.200 denunce in meno rispetto al 2018. Aumentano anche le persone morte sul lavoro nella nostra regione, 13 in più rispetto all'anno precedente. L'ultima vittima il 3 dicembre scorso, un autotrasportatore 53enne di Grotta a Mare che è rimasto schiacciato tra la motrice e il rimorchio di un autotreno, carico di collettame che avrebbe dovuto consegnare. Quello delle morti sul lavoro nelle Marche è il secondo dato più elevato dopo la Sicilia. E questo in un contesto nazionale inverso nel quale si registra un decremento di 44 morti rispetto al 2018. Nei primi 11 mesi del 2019 il numero degli infortuni denunciati è diminuito nella gestione industrie e servizi e in agricoltura, mentre aumentato nel conto Stato. Più esposti al rischio infortuni i lavoratori stranieri, gli under 30 e i lavoratori settantenni. Aumenta, seppur di poco, anche l'incidenza tra le lavoratrici.